Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Oggi sto qui con Path of Exile, un gioco free to play che potete trovare gratuitamente su Steam, di cui io ignoravo, non avevo capito che tipo di gioco era. Pensavo che era una volata e ho detto vabbè, sarà un giochino un po' stupido, invece no. Invece è da molti considerato il vero Diablo 3, perché questo gioco prende forte ispirazione da Diablo 2. È un hack and slash classico, fortemente ispirato a Diablo 2. Possiamo dire che è un suo seguito spirituale, è un suo clone fortemente riuscito. Ovviamente l'ho provato stamattina, sono andato un pochino avanti ed è meraviglioso. È veramente molto 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 carino. Allora intanto vi faccio vedere le varie classi, qua ne ho creata una giustamente che è la mia. Eccola qua, vabbè, mi sono chiamato Natron, perché Natron non andava bene. E sono una strega di livello 4. Allora, vediamo i vari personaggi. Vabbè, qua ancora le league non ho ben capito che tipo di... Io ho messo questo qua standard. Quindi ho fatto quella standard. Allora, i personaggi sono il Templar, che è il templare, quindi il classico templare appunto, che tutti quanti noi conosciamo. Qua possiamo vedere la vera descrizione del personaggio. Poi abbiamo lo Shadow, che è il classico assassino. Il Marauder, che è il classico guerriero, barra, barbaro, potete anche tranquillamente vedere voi. Abbiamo il Ranger, che è il classico arciere, che è solo femmina. Ok, quindi i personaggi così come in Diablo 2 sono standard come sesso. Almeno credo. Abbiamo poi il Duelist, che è il guerriero con spada e scudo. No, ah no, è un guerriero molto molto veloce, quindi ha molto più a... Diciamo, mentre il Marauder, quindi il barbaro, è incentrato sulla forza, lui dovrebbe essere incentrato sulla distrezza. E poi quello ovviamente che ho preso io, che è la Witch, che è il mago, la strega, il classico mago. Ok? Allora, andiamo a vedere direttamente in game ora, visto che io li ho fatto vedere come è grossomodo la selezione dei personaggi. Quindi voi scegliete uno e cominciate. Allora, io qua sono la prima città, ok? Com'è incentrato, allora, il gioco? Allora, intanto qua abbiamo la minimappa della zona, che potete tranquillamente attivare o disattivare. Qua abbiamo le varie quest attive. Quelle, quelle che stiamo facendo ora. Salute con questa qua, che è lo scudo, il mana, esattamente come in Diablo 2. Faccio ovviamente riferimento a Diablo 2 perché è quello a cui si sono ispirati di più. E si vede che si sono ispirati a Diablo 2. E si vede. Vabbè, il menu con le varie cose appunto, quindi l'inventario, il personaggio e tutto quanto, ovviamente ci si muove con il mouse sinistro, le pozioni del mana, della recupero della salute del mana e altri, ok? Il gioco purtroppo in inglese, ragazzi. Non è stato tradotto in italiano, non so se esiste una patch che lo traduca, però purtroppo questo è quanto. La varie dell'esperienza, tra l'altro sono al 90% quindi cercheremo in questo episodio di salire di livello in modo che vi faccio anche vedere cosa succede. Lo shop, ok? Shop che rispetto, allora non è un pay to win, ok? Non credo che sia pay to win. Qua nello shop possiamo vedere soltanto degli aspetti estetici e cose del genere. Quindi vedete effetti per le armature, delle skill, del footprint, quindi abbiamo delle impronte. Sono tutti praticamente, i pet, sono tutti effetti che possiamo comprare in aggiunta al gioco. Quindi sono puramente estetici, non avremo, come era l'Action House di Diablo 3 ad esempio, che io non avevo voglia di giocare, spendevo soldi del gioco o soldi veri, ancora peggio, per comprare oggetti, per farmi il personaggio sgravo, ok? Quindi sono soltanto, vedete, tutti quanti effetti penso comunque di questo tipo qua. Qua abbiamo ovviamente le varie skill, quindi abbiamo tasto sinistro, tasto centrale, tasto destro del mouse per le skill attive e le varie 5, quindi quert, che sono le varie 5 tasti per le varie abilità appunto come c'è anche in Diablo 3. E il mana. Allora, andiamo a vedere intanto l'inventario, l'inventario è... no, andiamo a vedere intanto il coso del carattere. Vedete, abbiamo il nostro personaggio, l'attuale livello, la vita, il mana, lo scudo, che sarebbe la difesa. Dove è più propenso il nostro... questo è l'altro giocatore? Ah, non l'ho detto, il gioco è totalmente online, multiplayer, quindi possiamo unirci a gruppi, commerciare, scambiare e fare cose varie con altri personaggi. Ovviamente giochi, giocatori reali. Vediamo che abbiamo queste 3 caratteristiche, ok? I vari personaggi sono... sono... si divisi... diciamo, sono basati su queste 3 caratteristiche. Forza, destrezza e intelligenza. Ovviamente il mio, essendo una strega, quindi essendo un mago, è basata sull'intelligenza. E qua possiamo vedere tutte le varie statistiche di difesa e cose varie, ok? Qua abbiamo anche la chat, se vogliamo ovviamente... abbiamo la chat globale, vedete, chat globale, va bene, la lascio un attimo attiva, non si sa mai. E poi abbiamo l'inventario, l'inventario è uguale a W2, uguale, possiamo avere due tipi di slot delle armi e abbiamo praticamente l'inventario, ok? Abbiamo praticamente l'inventario di Diablo 2 con tutti i vari oggetti che vanno a recuperare, che vanno... Ora vi faccio vedere, andiamo un attimo da lui, che è appunto il vendor, quello diciamo, il venditore che ci vende armi, equipaggiamento vario. Abbiamo puricese items, sell items. Vedete? Quindi io posso tranquillamente comprare gli oggetti, uguale, identico a W2, ragazzi, è una cosa veramente impressionante. E ovviamente questi vanno a occupare, eh, tipo questo che sono 6 caselle, questo mi va a occupare 6 caselle. Quindi una volta che ho l'inventario pieno, devo venire di nuovo qua per andare a metterlo o nella mia riserva storage principale, oppure a venderlo, ok? Le differenze, le differenze sostanziali con gli altri che eserci, specialmente con Diablo 2 e anche Diablo 3, sono due veramente che sono meravigliose. Allora, le abilità attive, ok? Io, ehm... Allora, ovviamente noi siamo abituati che ogni gioco di ruolo, quando uno scende una classe, quella classe ha già preimpostato le varie abilità. Ok? Quindi se io prendo un guerriere avrà, quello che cazzo fa, il berserker, avrà, eh, che gli avrà l'attacco poteroso, il satto, l'attacco potente, se scegliamo un mago avrà la classica palla di fuoco, la tempesta di ghiaccio, il fulmine, no? Quindi, ehm, skill preimpostati che si imparano con l'avanzare del livello, oppure, eh, ad esempio, ehm, skill appunto come Diablo 2, che io metto il punticino, ehm, su quella skill per impararle, quindi per aumentarne la potenza, no? Esattamente appunto come accade in Diablo 2 e in Diablo 3. Qua no. Qua no, qua abbiamo il sistema delle materie di Final Fantasy 7. Lo stesso identico sistema, lo stesso identico figata di sistema di Final Fantasy 7. Cosa vuol dire? Noi, quando iniziamo, non abbiamo skill, ok? Noi le skill non le impariamo, il personaggio nostro non ce l'ha come tutti gli altri personaggi. Durante il nostro, sia dai venditori che dal sconfiggio dei vari nemici, ok? Ehm, noi sbloccheremo, diciamo, le varie, delle gemme. Noi sbloccheremo delle gemme. Queste gemme sono le abilità attive, cioè quelle che si mettono qui e bisogna premere il tasto per attivarle. Quindi come la palla di fuoco, il fulmine, l'attacco poderoso del barbaro e benicendo. Queste gemme sono... Ora ve le faccio vedere, forse, qua non so se ce n'ho una, non nemmeno. Ora andiamo qui dal vendor che appunto le vende. Sono queste. Eccole qua. Le gemme. Queste sono tutte le... Una piccolissima parte ovviamente. Queste sono le abilità attive che praticamente possiamo comprare e metterle come le materie di Final Fantasy VII, che le materie di Final Fantasy VII si mettono nel ricopaggiamento per poter... Quindi sono materie di riferito a abilità, magie, tecniche, invocazioni. E vi dicendo, qui uguale, qui si mettono nei castoni vuoti dell'equipaggiamento per poter utilizzare quella magia. Ad esempio, io per ora ho una sola magia, visto che volevo farmi il necromante. Quindi sono messo sulla mia wand, cioè sulla mia bacchetta magica, la mia unica, per ora, gemma dell'abilità che è il, vedete, Rise Zombie. Cioè io con questa abilità posso evocare gli zombie. Ok? Quindi come funziona la cosa, la... Le gemme. Allora, ora io la levo. Ovviamente una gemma si può levare con il tasto destro. Comunque poi vi spiego. Allora, io diciamo che ho questa gemma. Questa gemma è di colori blu. Esistono tre tipi di colori. Blu per l'intelligenza, rosso per la forza e verde per la distrezza. Ovviamente la gemma del colore particolare va nel castone vuoto del colore. Quindi io non posso mettere questa gemma, ad esempio, qua, perché questi sono di colori, potete vedere, verdi. Quindi questo è un elmo dedicato alle gemme della distrezza. Quindi questa qua non ci va. Ok? Posso metterla quindi soltanto in quella... Nemmeno qui ci va. Posso metterla soltanto in quelle con il colore blu. In questo caso c'è uno solo umber, che è appunto questa bacchetta magica. Vedete, c'è un castone vuoto. Allora, questa è una gemma dell'abilità. Questa è l'abilità del Rise Zombie. Cioè, questa è la vocali zombie. Come vedete, c'è intanto che tipo di abilità è Spell, Minion e il tipo di livello, perché sì, poi aumentano anche di livello. Il costo di mana, il tempo di lancio. Ovviamente il livello, i requisiti per utilizzare questa tecnica. In questo caso il livello 4 e richiede 16 di intelligenza del personaggio per poterla utilizzare. Cosa ci dice qua l'abilità? Quindi Rise Zombie, Minion. Quindi, diciamo, evoca uno zombie minion. Quindi uno zombie da un corpo. Ok, quindi che ti seguirete, che rende invece corpo a corpo, eccetera, eccetera. Attualmente posso evocare fino a tre zombie. E poi c'è questa barra del livello, praticamente. Come accade anche in quel meraviglioso, che io amo, sistema di materie di Final Fantasy VII. Che più ti utilizzi l'abilità, più l'abilità si potenzia. Quindi sale di livello e diventa più potente. Anche qui l'abilità, più le usi, più salgono di livello e diventano più potenti. Ed è una cosa meravigliosa. È una cosa nuova per il genere di Hack and Slash. Di questo genere. Ed è fantastica. Mi sembra che i livelli di ogni gemma dell'abilità sono, mi sembra, tipo 20 o 21. Una cosa meravigliosa. Attualmente sono a livello 3 di questa abilità. Ed è fantastica. Ovviamente io per questa gemma, vedete, io ora non ce l'ho qua. Non ho nessuna abilità. Quindi, dice cavolo, come cavolo faccio a utilizzare questa abilità. Questa va messa, come dicevo io, in un qualsiasi equipaggiamento con un castone vuoto di colore blu. Ok? Quindi io vado a metterla qui, clicco con il tasto sinistro del mouse e logicamente io posso utilizzare, vedete, questa abilità qua. Che poi, volete, posso spostarla, posso metterla qui, posso metterla qui, dove cavolo mi pare, insomma. Se io voglio levarla, perché magari voglio cambiare, per un momento, abilità, la evidenzio. Allora, vedete, con il tasto sinistro sposto tutto l'oggetto, tutto l'equipaggiamento. E' quindi l'oggetto selezionato. Seleziono la gemma, ci clicco con il tasto destro e quindi senza pagare nulla, nessun venditore per levarla del gem, come in Diablo 3 e cose del genere. Io la levo, ok, la levo e posso spostarla e metterla qua nell'inventario. Ed è una cosa veramente, veramente fantastica. Il sistema, uno dei sistemi che io amo di tutta l'intera saga di Final Fantasy 7, di Final Fantasy, scusate, è riproposto qui in modo veramente fantastico. E questo per ogni abilità, vedete, se io ora vado a vedere altre abilità che posso comprare da lei, abbiamo questa che lancia una palla di fuoco, però è a livello 3, perché praticamente sono tutte a livello 3, perché sono tutte a livello 3, non lo so. Forse perché sono io che sono di livello 3, no, sono di livello 4, però sono io che ho il livello 3 dell'abilità, non lo so. Questo devo ancora dare, ragazzi, ho cominciato a giocare questa mattina, quindi ho detto no, devo fare subito il video perché è meraviglioso. E questo quindi uscirà oggi, che è domenica, quindi random gameplay, appunto come avevo annunciato nel mio blog. Vedete, abbiamo la Fireball, abbiamo il Magma Orb, abbiamo la Freezing Pulse, quindi è una cosa di tipo, comunque vedi, IC Projected, quindi un proiettile di tipo ghiaccio, di tipo intelligenza, ma è abilità di tipo destrezza. Eh, quindi vedete, Eternal Knives, quindi per quello è appunto tipo lo spadaccino oppure l'assassino, quindi sono più agili. Ed è veramente bellissimo come sistema, veramente una cosa meravigliosa. E questo è uno. Hanno inserito anche, fantastici, hanno inserito anche un altro sistema di livello. Intanto andiamo a fare da questo, ok? Io devo andare a Fetid Pool, ok? Questa zona qua. Ossia, ah, ovviamente qua ci sono un totale di quattro atti e così come in Diablo 2 c'è, abbiamo le varie missioni. Queste sono le quest che ho fatto, queste sono le quest che devo fare io. Devo praticamente andare qua in questa zona e ripulire la Fetid Pool da tutti i non morti e da ogni altro mostro. Allora, hanno anche inserito, meraviglioso veramente, ah, i weapon ovviamente, ah, non vi ho spiegato anche una cosa. Allora, l'acquisto, allora qua, come potete vedere qua dal mio inventario, non c'è le monete d'oro. Non abbiamo le monete d'oro. E quindi voi direte, come cavolo si fa a acquistare gli oggetti con il baratto, possiamo chiamarlo così. Praticamente io quando vendo, vi faccio un esempio ora, della vendita di queste, ovviamente non le vado a vendere, ok? Ah, no, anzi, vendo una pozione. Allora, se io, ad esempio, mi voglio vendere questi due oggetti, ok? Io vado da un venditore pazzi, diciamo lui che vende armi, armature e tutto quanto, no? Li dico, se lì è items. Allora, qui ci si spostano tutti gli oggetti che vogliamo vendere. Mettiamo il caso che voglio vendere questi Iron Gauntlet, ok? Quindi le metto qua e lui non mi dà in cambio dell'oro, perché non esiste qua l'oro, ma mi dà degli oggetti. In questo caso mi dà uno Scroll Fragment. Scroll Fragment che, come appunto leggiamo qui, c'è uno stock, quindi di 5 Scroll Fragment, diventano una Scroll of Winsome. C'è una pergamena dell'identificazione, bene sì, perché ci sono sia le pergamene dell'identificazione sia le pergamene del portale cittadino, come c'è in Diablo 2 e in Diablo 3, hanno mezzo castrato praticamente, una cosa veramente oscena. Qua invece ce l'hanno messo, quindi noi non otterremo monete d'oro vendendo questo oggetto, ma otterremo un frammento per la pergamena dell'identificazione. La stessa cosa se noi andiamo a vendere questo, più che altro, vedete, otterremo più che altro lo Scroll of Fragment. Ok, se io ad esempio vado a vendere, che ne so, l'armatura, ottengo in questo caso un Alteration Shard, cioè, qui c'è uno stack di B4, lo otteniamo, vedete? Se io qua riesco a creare uno stack di 20 Shard, diventano un ordine di alterazione, che non ho mai capito ancora a che cosa serve, perché ho cominciato a giocare da stamani. E la stessa cosa se vogliamo comprare gli oggetti. Noi compriamo gli oggetti, non con le monete di gioco, ma, vedete, con i vari oggetti, ad esempio, se io vi voglio prendere questo scudo, vedete, c'è, ovviamente ci dice le varie abilità dello scudo, e poi ci dice il costo che, ovviamente, dobbiamo pagare per prendere questo scudo. Ad esempio, il costo per prendere questo scudo è di una Scroll of Winsome, cioè questo richiede una pergamena di identificazione per comprare questo scudo. Lo stesso cosa per questo arc, un altro Scroll of Winsome, se io mi voglio comprare questa armatura, mi richiede una Armorer Scrap, che credo che otterremo scrappando, facendo una cosa del genere, con le varie armature, per ottenere, per esempio, questa freccia, cioè un'orme di trasmutazione, che non so nemmeno che cos'è, cioè, praticamente, questo è il commercio. Ok, quindi, praticamente, il commercio è vendere degli oggetti per ottenerne altri, quindi poi usare questi oggetti per comprarli, praticamente, cioè, per comprare altri oggetti, ovviamente, ed è bello, ed è veramente bello. Ora, vi voglio un attimo far vedere, andare avanti un attimo con questa missione. Ah, un'altra cosa, come in Diablo 2 accade, no, perché sono anche emozionato da questo gioco, come in Diablo 2 accade, premendo il tasto Tab appare la pariva, la meravigliosa minimappa centrale, trasparente, qua, premendo il tasto Tab, appare la stessa identica minimappa, che potete anche togliere o tenere, come ho fatto io qua, nell'angolo in alto, a destra. La stessa, vedete, identica mappa, uguale, uguale, c'è in questo gioco, e in Diablo 3 hanno tolto. Quindi, potete già capire, a parte qual è il gioco, così sono fortemente ispirati, ma, poi, vabbè, è fantastico, è veramente meraviglioso. Quindi, ora io vado a fare questa missione, quindi mi teletrasporto qua, dei Mad Flats, che poi devo andare di qua, ok? Quindi vado, e non ho cliccato. Ah, no, è vero, perché devo andare a fatti di pool, quindi andare per forza la costa, e poi, perché non posso andare qua? perché non ho aperto un portale, ne ho trovato un waypoint. E ovviamente qua, scordatevi il viaggio veloce, cioè, scordatevi proprio il viaggio veloce, come c'è in Diablo 3, per Milka Sottil, lui si teletrasporta in città, eccetera, eccetera. No, non c'è. Proprio non esiste, non esiste. Praticamente, non esiste questa cosa. Purtroppo. Ok. E quindi posso constatare anche una cosa molto interessante, che le mappe vengono di nuovo generate randomicamente ogni volta che noi, credo, usciamo dal gioco, perché ora se io vado di qua, vado nell'isola quella là, nell'Atad Island, che a me sicuramente non me ne frega nulla, perché devo andare di qua, a Demand Flat, che però non posso andarci, perché mi sa che non ho scoperto il portale. No, vedete, non ho scoperto il portale. Vabbè, comunque, esploriamola. Ovviamente, lei, essendo un mago, la strega, quindi attaccherà ovviamente a distanza. Ok, una volta ucciso questo, lo posso evocare uno zombie. Ovviamente, faccio il necromante come classe principale. Ed è quello, praticamente, non è altro che, ovviamente abbiamo l'abilità attiva in questo caso, mi dicono che ho tre zombie attualmente sotto il mio comando. Ed è quello che è in realtà, ah, vedete, qua voi non la vedete perché, scusate, c'è la webcam, comunque c'è scritto che ho un'icona di questo, che è l'icona degli zombie, con il numero tre, e perché ho attualmente tre zombie sotto il mio comando. Ok, ecco qua, the mod flat, quindi andiamo qua, entriamo dove devo andare e devo, praticamente, ecco qua, devo andare a ripulire, devo andare alla fettine di pool, che dovrebbe essere qua, vedete, questa è la mia missione. Mappa poi uguale a Diablo 2, con c'è, cazzo, è uguale, ok, questo credo che sia tipo un campione, un mini boss o qualcosa del genere, ok? Ah, poi, ok, sono salito di livello, fantastico, livello 5, ora vi spiegherò una cosa, premendo il tasto alto, ovviamente, possiamo anche vedere come in Diablo 2 tutti gli oggetti che ci lasciano cadere a terra, possiamo anche vedere i socot, cioè i castoni vuoti, dove potrei inserire le gemme dell'abilità, e io li prendo tutte e due, perché, appunto, mi servono poi, se non posso avere, li vendo. Premendo qua, comunque per comparare con l'oggetto, attualmente equipaggiato, basta premere di nuovo Alt, ok, e vediamo che questo, Spicked Bundle, che è uno scudo, se non sbaglio, sì, perché vedete, sì, è evidenziato di vera di questa zona qua, praticamente qua dice, la possibilità di bloccare è uguale, l'armatura, non me la dà, però c'ha, un rating di versione di 11, quindi di fuga, di fuggire dalle cose, uno scudo di 4, e basse, però mi riflette due danni, di tipo fisico, agli attacchi, agli attacchi in melee, quindi potrei anche, equipaggiarne, è vero che mi dà, armor 8, cioè, questo equipaggiato, però, magari, è un pochino più, più forte, questo, quindi, vedete come alimentare, no, che, come in Diablo 2, va a occupare, cioè, gli oggetti vanno a, diciamo, a riempire, per avere un inventario, quindi, non è come nel 3, che possiamo, portare 10.000, oggetti, perché prima, riempiamo l'inventario, campo a cavallo, ok, qui si fa, prima, ok, questo, è vero che ha, più armature, però non ha, praticamente, nulla di abilità, e sto anche vedendo, una cosa molto interessante, forse, no, 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 ok, a parte questo qua è blu, quindi credo che sia un po' più raro, di questo qua, che ha il colore, vedete, il colore, bianco, quindi credo che quello sia la rarità, quindi c'è quello a sinistra, c'è questo che sono equipaggiato io, credo che sia tipo, oggetto magico, questo è oggetto normale, però questo comunque lo lasciamo, poi lo venderemo, comunque, successivamente, ok, allora, ora, io, sono salito di livello, ok, quindi c'è ora da mettere, il punto, fantastico, il punto, dell'abilità, com'è che accade, voi magari pensate, pensate, te lo metterà il classico punto sulle variabilità, quindi su destrezza, intelligenza, non so, ma come ogni, like a slash, gioco di ruolo, sui rispetti, no, avete presente la, e qui entra nel gioco, l'altra cosa che io amo, di un altro Final Fantasy, avete presente la sferografia, di Final Fantasy X, è quella, c'è anche quella, uguale, uguale, identica, spiaccicata, cosa vuol dire? Vi faccio vedere, ogni volta che noi saliremo di livello, acquisteremo un punto, abilità, da mettere nell'albero, delle skill passive, ok, quindi quelle skill che abbiamo, permanentemente, che è questo, e questo è l'albero, delle skill, passive, cioè, vi rendete conto? Cioè, questa è, la sferografia, di, Final Fantasy, 10, è quella, è uguale ragazzi, non c'è cavoli che tengono, è quella lì, ovviamente, ogni zona, è riservata a personaggio, quindi io, ho preso la strega, parto di qui, questo dovrebbe essere tipo, il marauder, da qui, non so cosa abbiamo ora, se abbiamo, tipo, il, cioè, ovviamente ogni personaggio parte da qui, cioè, qui parte da il marauder, qui c'è un altro personaggio, qui c'è un altro, qui c'è un altro, qui c'è un altro, qui abbiamo, un nuovo personaggio, che sbloccheremo una volta finito, una volta il gioco, che è la, la Skion, la Skion, praticamente, che è un guerriero, una guerriera, che utilizza, dovrebbe utilizzare tipo cose magiche, armi magiche, una cosa del genere, esattamente, come, cioè, sono mille, mi sembra, che ho letto su una recensione, che sono 1350 skill passive, e cosa dico skill passive, voglio dire che, aumenta, è come, è la stessa cosa, della stereografia di Final Fantasy X, ogni volta che noi, mettiamo un punto, io ora, posso aumentare, vedete, io sono qua, ok, posso aumentare anche, questo, vedete, quindi posso aumentare questo, non posso aumentare questo, perché io, ho sblocato fino a qua, quindi da qui posso sbloccare, quello, dove mi si collega, quindi, avendo sbloccato, questo ramo qua, ok, io posso sbloccare, questo, applicando il punto, questo non posso sbloccarlo, perché, devo sbloccare questo, però, essendo qui, posso sbloccare, posso sbloccare questo, posso sbloccare, questo, perché, ho sblocato questo, e posso sbloccare questo, non posso, ad esempio, sbloccare questo, ok, perché, non ho, cioè, praticamente, devo sbloccare, l'abilità, prima, che me lo collega, come, come in Final Fantasy X, uguale, uguale, solo che qua, la differenza, è che non ho, l'affarino, che mi devo spostare, per poi, mettere, diciamo, diciamo, la, la gemma, come in Final Fantasy X, come tipo, quell'oggetto, che ti sbloccava, quell'abilità qua, ok, e questo, cioè, e qui, e qui abbiamo, tantissimi tipi di abilità, quindi, tipo, c'ho un aumento della rigenerazione del mana, 25% increased mana regeneration rate, e, mi dà un 14, un più 14, dell'energia, allo scudo dell'energia massimo, che sarebbe, questo qua, poi se andiamo a vedere, altre abilità, tipo del marauder, che ne so, questo che dice mana in life, quindi aumenta il mana in la vita, questo abbiamo la precisione, quindi, aumenta queste cose qua, cioè, la storiografia, ragazzi, di Final Fantasy X, mi hanno messo, in un gioco, in un unico gioco, due, guardate, ma vedete, la mia build, che sto seguendo, e ve lo consiglio altamente, praticamente, hanno messo, due cose che io, due sistemi che io amo, in tutta la saga di Final Fantasy, l'hanno messo in un unico gioco, meraviglioso, vi consiglio, anche come sto facendo io ora, di andare a seguire, una build preimpostata, sul sito di Path of Exile, che ovviamente, è tutto in inglese, e il gioco purtroppo in inglese, perché è meglio, che seguite una build particolare, io sto seguendo quella, classica, della Witch, della Witch, evocatrice, quindi, classica, necromante, però, voi, ovviamente, potete, cioè, sono una marea di build, diverse, ragazzi, in teoria, in ordine, dovrei aumentare sempre questo, dovrei andare, vi faccio vedere, dovrei andare esattamente, dovrei eseguire questo ramo qua, fare questi due, e poi andare qua, di pochino, vedete, aumenta, il mano massimo, l'energia, e l'intelligenza, ok, quindi, essendo qua, non posso prendere questo, perché, per prendere questo, devo, prima, apprendere questo, ok, quindi, io vado qui, applica un punto, vedete, ho qua un punto, e ho appreso questo, ora, al prossimo livello, posso prendere questo, ok, e questo, ragazzi, è il sistema di, quando uno, aumenta di livello, mette, le varie punte, le varie, caratteristiche, e niente, questo, praticamente, è il gioco, ragazzi, è fantastico, voglio, andare un pochino, avanti, per, vedere, c'è un omino, che prima, qua non c'era, quindi, vedo, vedo che, vedo che, viene generato, un po', forse, anche un po', il tutto, tu che sei, vabbè, allora, salto, perché tanto, allora, qua, nel questo gioco, come accade, ma che diablo 2, ho completato la missione, difendere le rique, allora, qua, come accadeva, nel, nel, in w2, la, la, la storia, odio gli scheletri, la storia, praticamente, è quella, che è, praticamente, alla fine, ok, cioè, la storia, fa veramente, schifo, è un, è un, un pretesto, per andare avanti, e massacrare, wordi, su wordi, su wordi, di nemici, come ogni, che si rispetti, giustamente, è, perché, giustamente, dobbiamo, è, perché, ovviamente, la storia, diciamo, in questi giochi, non è importante, alla fine, quindi, e questo, giustamente, è un, è un, un tipico, combattimento, ovviamente, di, ma è anche morto uno scheletro, non lo vado, così, animare, questo è un tipico, combattimento, di, Path of Exile, ovviamente, io, facendomi, appunto, come abilità necromante, ho soltanto l'abilità di evocare i morti, perché è quello che devo fare io soltanto, e basta, e ce l'abbiamo fatta, penso, e abbiamo, un boss, mini boss, un campione, non so ancora, questi qui, come si chiamano, me ne è morto un altro, lo evoco, ok, e abbiamo terminato la missione, facciamo fare anche questo, e stiamo a posto, ragazzi, quindi, tanto vedo altro, vedo, mamma mia, allora, me ne prendo tutte, perché poi tanto le vado a rivendere, adesso, già riempendo tutto, cioè, come potete vedere, ragazzi, non è altro che, da molti considerato, il velo diavolo 3, perché in effetti, è quello che deve essere, veramente, diavolo 3, cioè, non è altro che, questo non è altro che, un diavolo 2, fatto meglio, praticamente, ed è, no, perché sono pieno, ok, ed è, ed è fantastico, una volta completata da questo, basta andare su Romino, e dovrebbe, darci una ricompensa, no, non c'è una ricompensa, di solito, ci dà una, una ricompensa, tipo, scegli tra questi tre oggetti, ecco, mi è capitato una cosa del genere, e, credo che, mi ci sparafrescerò parecchio, perché, io mi sono drogato, letteralmente, a Diablo 2, Diablo 2, con l'espansione, Lord of Destruction, Diablo 3, Diablo 3, sì, ci ho giocato, tanto, 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 ma, rispetto a Diablo 2, aveva quel qualcosa, che sì, bello, ma, mi manca qualcosa, mi manca qualcosa, che, questo, fottuto gioco, ce l'ha, porca miseria, ok, ora, ad esempio, ho pieno, quindi, dovrei tornare indietro, a svuotare, vi faccio anche vedere, poi, diamo il video, andando indietro, a vendere tutti gli oggetti, ovviamente, non ho ancora, purtroppo, la pergamena, del, 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 cosa, non ho ancora la pergamena, ah, ovviamente, le mappe, quando, in modo che si comincia una partita, sono generate, randomicamente, sia la mappa, questa qua, quindi, quella dove siamo ora noi, sia i dungeon, e tutto quanto, cosa che, in Diablo 3, purtroppo, la mappa, standard, rimane, quella che è, è fissa, non cambia di una virgola, invece, quella di dungeon, sì, allora, io vado a, intanto, vediamo un attimo, cosa abbiamo, vabbè, queste non, non mi interessano, cioè, mi interessano, tanto le wand, le bacchette magiche, questa, eh, in caso di spell damage, però, ecco, questa magari mi, serviva, ad esempio, se, magari era utile, se io ero un mago classico, quindi sparavo palle di fuoco, cose del genere, quella mia era veramente, veramente utile, vedete, questo è da identificare, però io, li vendo, a lei, armor 9, armor 7, questo è da vendere, questo, quindi, vendiamo questo, vendo questo, 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 lo scudo, questo, l'arco, e questo per identificarlo, vedete, vedendo tutta questa roba, io ottengo, una, pergamena di, di identificazione, quattro, scroll of fragment, quindi, accetto, io uso subito, questa pergamena di identificazione, per identificare questo oggetto, e, allora, queste sono gli artigli, claw, ok, quindi, praticamente, questa è un'arma, un'arma che, ovviamente, per il corpo a corpo, ma, non mi faccio nulla, del corpo a corpo, essendo un mago, quindi, l'avendo immediatamente, e mi dà, oh che bello, 3 iteration shard, ok, quindi, io vado, poi, una volta fatto tutto, vado a vedere, con quello che avevo, io, qua, nel, 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 quindi, avendo, 5, ok, fragment, io, con queste 5 fragment, ho fatto, una pergamena di, identificazione, se io mi voglio comprare, anche una pergamena, del, del, del portale cittadino, cioè, che io, io, apre un portale, e mi, teletrasporto, quindi, direttamente, nella città, principale, che ogni atto, ha, quindi, è una città principale, dove, si fanno, acquistire, venditori, si vendono, gli oggetti, e si parte, ogni volta, che, si, chiude il gioco, ok, io, per comprare, una di queste, pergamene, dovrei, credo, avere, tipo, tre, ecco, qua, vedete, portal scroll, mi richiede, tre scroll, scroll of windsor, quindi, devo avere, tre, pergamene di identificazione, per comprare, una di, di queste, ok, e, non è, non è neanche tanto malvagio, comunque, come cosa, e, vabbè, questo è giustamente, avendo via, ah, ho fatto anche un fragment, fragment, un orb, alteration, che non so che cos'è, allora, riforgia, un oggetto magico, con un uovo, ah, ok, ganso, praticamente, questo, va a, riforgiare, un oggetto magico, quindi, penso, questi qui, con il nome tipo blu, e, li dà, delle, proprietà, delle nuove proprietà randomiche, quindi, se, ad esempio, a me, non mi sa bene, le proprietà di questo, che ha, da, più 9 armature, e, 1,6, di, di generazione, di vita, per secondo, io, ci clicco, con questo qui, su un oggetto, e, queste due proprietà, me le va a cambiare, fantastico, bello, 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 qui, vedete, possiamo aggiungere la nuova tab, ovviamente, comprando, con lo shop, ecco, questo appunto, cosa serve anche con lo shop, appunto, aggiungere, pagine nuove, e, e, niente, questo era ragazzi, era, Path of Exile, appunto, volevo farvelo vedere, perché, è, Diablo 2, alla fine, è Diablo 2, veramente, sotto ogni punto di vista, e, niente, direi che, posso, terminare qua ragazzi, il, il video, e, niente, spero appunto, che questo video, vi sia piaciuto, e ci vediamo, quindi, al prossimo, al prossimo video, ragazzi, al prossimo episodio, e, che continuerà ovviamente, con Final Fantasy 6, ciao a tutti,